salve oggi leggerò un racconto di osvaldo soriano da una raccolta dei naudi del 1995 pensare con i piedi leggerò il rigore più lungo del mondo il rigore più fantastico di cui abbia notizia è stato tirato nel 1958 in un posto sperduto di valle del rio negro una domenica pomeriggio in uno stadio vuoto estralia polar era un circolo con i biliardi e i tavolini per il gioco delle carte un ritrovo da ubriachi lungo una strada di terra che finiva sulla sponda del fiume aveva una squadra di calcio che partecipava al campionato di valle perché di domenica non c'era altro da fare e il vento portava con sé la sabbia delle dune e il polline delle fattorie i giocatori erano sempre gli stessi o i fratelli degli stessi quando avevo 15 anni loro ne avevano 30 e a me sembravano vecchissimi diax il portiere ne aveva quasi 40 i capelli bianchi che gli ricadevano sulla fronte da indio araucano alla coppa partecipavano 16 squadre e l'estrella polar finiva sempre dopo il decimo posto credo che nel 1957 si fossero piazzati al tredicesimo e tornavano a casa cantando con la maglia rossa ben ripiegata nella borsa perché era l'unica che avessero nel 1958 avevano cominciato a vincere per 1 a 0 con l'escudo cileno un'altra squadra miseranda nessuno ci badò invece un mese dopo quando avevano vinto quattro partite di seguito ed erano in testa al torneo nei 12 paesi di valle si cominciò a parlare di loro le vittorie erano state tutte per un solo gol ma bastavano a far rimanere il deportivo belgrano l'eterno campione la squadra di paden di costante gauna editata cardiles al secondo posto con un punto di distacco si parlava dell'estrella polar a scuola sull'autobus in piazza ma nessuno immaginava ancora che alla fine dell'autunno avrebbero avuto 22 punti contro i 21 dei nostri i campi si riempivano per vederli finalmente perdere erano lenti come somari e pesanti come armadi ma marcavano uome e gridavano come maiali quando non avevano la palla l'allenatore uno vestito di nero con baffetti sottili un neusula fronte mozzicone spento tra le labbra correva lungo la linea laterale e li incitava con una verga di vimini quando gli passavano vicino il pubblico ci si divertiva e noi che giocavamo di sabato perché eravamo più piccoli non riuscivamo a spiegarci come potessero vincere se giocavano così male davano e ricevevano colpi con tale lealtà e con tale entusiasmo che dovevano appoggiarsi gli uni agli altri per uscire dal campo mentre la gente li applaudiva per l'una zero e porgeva loro bottiglie di vino rinfrescate sotto la terra umida la sera facevano festa nel postribolo di sant'anna e la gorda zulema si lamentava perché le mangiavano le poche cose che conservava nella ghiacciaia erano diventati l'attrazione del paese e a loro tutto era consentito i vecchi li raccoglievano nei bar quando bevevano troppo e cominciavano ad attaccar briga i commercianti li omaggiavano di qualche giocattolo di caramelle per i bambini e al cinema le ragazze accettavano carezze al di sopra delle ginocchia fuori dal paese nessuno li prendeva sul serio neppure quando avevano vinto con l'atletico san martin per 2 a 1 nel pieno dell'euforia furono sconfitti come tutti quanti a barda del medio e sul finire dell'andata persero il primo posto quando il deportivo belgrano li sistemò con sette gol tutti credemmo allora che la normalità fosse stata ristabilita ma la domenica dopo vinsero per 1 a 0 e continuarono nella loro ritania di laboriose orrende vittorie e arrivarono alla primavera con un solo punto in meno rispetto al campione l'ultimo scontro divenne storico a causa del rigore lo stadio era tutto esaurito e lo erano anche i tetti delle case vicine e il paese intero aspettava che il deportivo belgrano giocando in casa replicasse almeno i sette gol dell'andata il giorno era fresco e assolato e le mele cominciavano a colorirsi sugli alberi l'estreia polar aveva portato oltre 500 tifosi che presero d'assalto la tribuna e i pompieri dovettero tirar fuori gli idranti per farli star calmi l'arbitro che fischiò il rigore era erminio silva un epilettico che vindeva biglietti della lotteria nel circolo locale e tutti quanti capirono che si stava giocando il lavoro quando al quarantesimo del secondo tempo si era ancora sull'1 a 1 e non aveva fischiato la massima punizione anche se quelli del deportivo belgrano entravano a tuffo nell'area delle estrelle a polar e facevano capriole e salti mortali per impressionarli sul pareggio la squadra locale era campione e erminio silva voleva conservare il rispetto di sé e non concedeva il rigore perché non c'era fallo ma al quarantaduesimo rimanemmo tutti a bocca aperta quando la mezzana sinistra dell'estreia polar infilò una punizione da molto lontano e portò la squadra ospite al 2 a 1 allora sì erminio silva pensò il suo lavoro e allungò la partita fino a quando padenne entrò in area e appena gli si avvicinò un defensore fischiò fece uscire dal fischietto un suono stridulo imponente e indicò il punto del rigore a quell'epoca il luogo dell'esecuzione non era segnato con il dischetto bianco e bisognava contare 12 passi da uomo erminio silva non riuscì nemmeno a raccogliere il pallone perché l'ala destra dell'estreia polar rivero detto il colo lo stese con un pugno sul naso la rissa fu così lunga che scese la sera e non ci fu modo di sgomberare il campo né di risvegliare erminio silva il commissario con una lanterna accesa sospese la partita e diede ordine di sparare in aria quella sera il comando militare decretò lo stato di emergenza o qualcosa del genere e fece preparare un treno per allontanare dal paese tutti quelli che non sembravano del posto secondo il tribunale della lega che venne riunito il martedì seguente si dovevano giocare ancora 20 secondi a partire dall'esecuzione del calcio di rigore e quel match privato tra costante gauna il cannoniere e il gato diaz in porta avrebbe avuto luogo la domenica dopo sullo stesso campo a cancelli chiusi così quel rigore durò una settimana e è se nessuno mi dimostra il contrario il più lungo della storia mercoledì marinammo la scuola e andammo nel paese vicino a curiosare il circolo era chiuso e tutti gli uomini si erano riuniti sul campo tra le dune avevano formato una lunga fila per battere rigori contro il gato diaz e l'allenatore col vestito nero e il neo sulla fronte cercava di spiegare loro che quello non era il modo migliore di mettere alla prova il portiere ma alla fine tutti tirarono il loro rigore e il gato ne parò parecchi perché li battevano con ciabatte e scarpe da passeggio un soldato bassino taciturno che stava in fila sparò un tiro con la punta dell'anfibio militare che quasi sradica la rete sul far della sera tornarono in paese aprirono circolo e si misero a giocare a carte diaz rimase tutta la sera senza parlare gettando all'indietro i capelli bianchi e duri finché dopo mangiato si infilò lo stuzzicadenti in bocca e disse costante li tira a destra sempre disse il presidente della squadra ma lui sa che io so e allora siamo fottuti sì ma io so che lui sa disse il gato e allora buttati subito a sinistra disse uno di quelli che erano seduti a tavola no lui sa che io so che lui sa disse il gato diaz e si alzò per andare a dormire il gato è sempre più strano disse il presidente della squadra nel vederlo uscire pensieroso camminando piano martedì non andò all'allenamento e nemmeno mercoledì giovedì quando lo trovarono che camminava sui binari del treno parlava da solo e lo seguiva un cane dalla goda mozzata lo pari gli domandò ansioso il garzone del ciclista non lo so che cosa cambia per me domandò che ci consacriamo tutti gato glielo diamo nel culo a quelle che c'è del bel grano io mi consacro quando la rubia ferreira mi dirà che mi vuole bene disse e fischio al cane per tornarsene a casa venerdì la rubia ferreira badava come sempre la merceria quando il sindaco entrò con un mazzo di fiori e con un sorriso l'arco come un'anguria aperta questi te li manda il gato diazzi fino a giovedì tu devi dire che è il tuo fidanzato poveretto disse la donna con una smorfia e nemmeno riguardò quei fiori che erano arrivati da neuken con l'autobus delle dieci e mezza la sera andarono al cinema insieme nell'intervallo il gato uscì nel ladrio per fumare la rubia ferreira rimase sola nella penombra con la borsa sulla gonna a leggere cento volte il programma senza alzare lo sguardo sabato pomeriggio il gato diaz chiese in prestito due biciclette e andarono a fare una passeggiata sulla riva del fiume mentre iniziava il pomeriggio cercò di baciarla ma lei girò la faccia e disse che forse gliel'avrebbe permesso domenica sera separava il rigore al ballo e io come faccio a saperlo disse lui a sapere cosa se mi devo buttare da quella parte la rubia ferreira lo prese per mano e lo portò fino al posto in cui avevano lasciato le biciclette in questa vita non si sa mai chi inganna e chi è ingannato disse lei e se non lo paro domandò il gato allora vuol dire che non mi vuoi bene rispose la rubia e tornarono in paese la domenica del rigore partirono dal circolo 20 camion carichi di gente ma la polizia li bloccò l'ingresso del paese e dovettero fermarsi accanto alla strada ad aspettare sotto il sole a quei tempi e in quel posto non c'erano né televisori né stazioni radio né qualche altro mezzo per seguire cosa succedeva su un campo chiuso così quelli delle streglie polar predisposero una specie di staffetta tra lo stadio e la strada il garzone del ciclista salì su un tetto da dove si vedeva la porta di gato diaz e da lì avrebbe raccontato quello che vedeva a un altro ragazzo che stava sul marciapiede che sua volta lo avrebbe riferito a un altro che stava a 20 metri e così via finché ogni particolare sarebbe arrivato fino al punto in cui aspettavano i tifosi delle streglie polar alle tre del pomeriggio le due squadre scesero in campo vestite come se dovessero giocare una vera partita erminio silva aveva la divisa nera scolorita ma in ordine e quando tutti furono schierati a centro campo andò dritto verso il colo rivero che gli aveva dato il pugno la domenica prima e lo espulse non era ancora stato inventato il cartellino rosso erminio indicava la bocca del tunnel con mano ferma da cui pendeva il fischietto alla fine la polizia portò via spintoni il colo che sarebbe voluto rimanere a vedere il rigore allora l'arbitro andò fino alla porta con la palla stretta contro un fianco contò 12 passi e la sistemò a terra il gato diaz si era pettinato con la brillantina e la testa gli risplendeva come una pentola di alluminio noi lo osservavamo appoggiati contro il muretto che circondava al campo proprio dietro la porta e quando si dispose sulla riga di calcio e prese a strofinarsi le mani nude cominciammo a scommettere su quale lato avrebbe scelto costante gauna lungo la strada avevano interrotto la circolazione e tutti aspettavano quell'istante perché erano dieci anni che il deportivo belgrano non perdeva una coppa né un campionato anche i poliziotti volevano sapere così lasciarono che la catena di staffette si dislocasse lungo tre chilometri e le notizie correvano di bocca in bocca ritmate dalle contrazioni del fiatone alle tre e mezza quando erminio silva ebbe ottenuto che i dirigenti delle due squadre gli allenatori e le forze vive del popolo abbandonassero il campo costante gauna si avvicinò per sistemare la palla era magro muscoloso e aveva le sopracciglia tanto folte che la faccia ne sembrava tagliata in due aveva tirato tante volte quel rigore raccontò poi che lo avrebbe rifatto in ogni momento della sua vita sveglio o addormentato alle quattro meno un quarto erminio silva si dispose a metà strada tra la porta e il pallone portò il fischietto alla bocca e soffiò con tutte le sue forze era così nervoso e il sole aveva tanto martellato sulla sua nuca che quando il pallone partì in direzione della porta sentì gli occhi rovesciagliesi all'indietro e cadde di spalle schiumando dalla bocca diaz fece un passo in avanti e si buttò sulla destra il pallone partì roteando su se stesso verso il centro della porta e costante gauna indovinò subito che le gambe del gato diaz sarebbero riuscite a deviarlo di lato il gato pensò al ballo della sera la gloria tardiva al fatto che qualcuno sarebbe dovuto correre per mettere in corner il pallone che era rimasta a rotolare in area e il petiso mirabelli arrivò per primo e la mise fuori contro la rete metallica ma erminio silva non poteva vederlo perché stava a terra e si rotolava in preda a un attacco di epilessia quando tutta l'estreria polarsi rovesciò sopra il gato diaz per festeggiare il guardialine corse verso erminio silva con la bandierina alzata e dal muretto su che eravamo seduti lo sentimmo gridare non vale non vale la notizia corse di bocca in bocca gioiosa la respinta del gato e lo svenimento dell'arbitro e a quel punto sulla strada tutti aprirono damigiane di viene e cominciarono a festeggiare sebbene il non vale continuasse arrivare balbettato dai messaggeri con una smorfia tonita fino a quando erminio silva non si fu rimesso in piedi sconvolto dall'attacco non arrivò la risposta definitiva come prima cosa volle sapere che è successo e quando glielo raccontarono scosse la testa e disse che bisognava tirare di nuovo perché lui non era stato presente e il regolamento prescrive che la partita non si possa giocare con un arbitro svenuto allora il gato diaz allontanò quelli che volevano pestare il venditore di biglietti della lotteria del deportivo belgrano e disse che bisognava sbrigarsi perché la sera aveva un appuntamento e una promessa e andò di nuovo a mettersi in porta costante gauna non doveva avere molta fiducia in se stesso perché propose a padenti tirare e solo dopo andò verso la palla mentre il guardialine aiutava erminio a stare in piedi fuori si sentivano strombazzamenti festosi dei tifosi del deportivo belgrano e i giocatori dell'estrella polar cominciarono a ritirarsi dal campo circondati dalla polizia il tiro arrivò a sinistra e il gato diaz si buttò nella stessa direzione con un'eleganza e una sicurezza che non mostrò mai più costante gauna alzò gli occhi al cielo e cominciò a piangere noi saltammo giù dal muretto e andammo a guardare da vicino diaz il vecchio che rimirava il pallone che aveva tra le mani come se avesse estratto la pallina vincente alla lotteria due anni dopo quando il gato era ormai un rudere io ero un giovanotto insolente me lo trovai ancora di fronte a dodici passi di distanza e lo vidi immenso ranicchiato sulla punta dei piedi con le dita aperte e lunghe aveva al dito una fede che non era della rubia ferreira ma della sorella del colori vero india e vecchia come lui evitai di guardarlo negli occhi e cambiai piede poi tirai di sinistro basso sapendo che non l'avrebbe parato perché era molto rigido e portava al peso della gloria quando andai a prendere il pallone nella porta si stava rialzando come un cane bastonato bene ragazzo mi disse un giorno andrà in giro da queste parti a raccontare che hai segnato un gol al gato diaz ma nessuno ti crederà spero ti sia piaciuto